Andrea Cerioli continua a far parlare di sé per i suoi modi, poco accomodanti, sull'isola dei famosi. Dopo gli attacchi social, arrivano i meme degli autori del rialti di Canale 5 e ovviamente gli internauti esplodono di lari, l'insofferenza all'isola dei famosi. Modello e influencer, Andrea Cerioli è diventato famoso per la sua partecipazione a Uomini e Donne, dove si è fatto conoscere, prima come corteggiatore e poi come tronista. Nato a Bologna, dopo l'esperienza nel dating show di Maria De Filippi, partecipa ad altri programmi di successo come Temptation Island e Il Grande Fratello. Cerioli, che ama viaggiare e ha la passione per la fotografia, oggi non solo ha un profilo Instagram con un milione e mezzo di follower, ma il pubblico lo sta seguendo anche all'isola dei famosi, dove ultimamente sta attirando l'attenzione di tutti, per i suoi modi un po', brontolone. Andrea Cerili contro tutti. Le polemiche infatti sono ormai all'ordine del giorno sulla sabbia di Playa Palapa con il naufrago Andrea Cerioli distrutto dalla stanchezza e dalla fame che comincia a far uscire la parte peggiore del suo carattere. Del resto è facile cadere in discussioni quando lo stomaco è vuoto e di discussioni, Andrea ne sta avendo un po' con tutti. Persino con Valentina Persia, sua grande amica, che l'ex tronista ha accusato di indossare una maschera. Cambi nomination ogni volta, togliti la maschera Valentina. Il malcontento di Andrea Cerioli però ha superato i confini dell'isola ed è arrivato in studio. Anche Elettra Lamborghini ha sbottato, facendosi sfuggire una parolaccia mentre commentava il naufrago bolognese. Insomma, una situazione che alla fine ha investito anche i social dove ha trovato terreno fertile per essere amplificato. Gli attacchi social. Qualche utente del web infatti non ha esitato ad attaccarlo duramente. Arianna Cirrincione, la fidanzata di Andrea, conosciuta proprio a uomini e donne ha cercato di difenderlo attraverso alcune stories Instagram dopo la messa in onda della diciassettesima puntata, sto leggendo dei commenti che trovo davvero di cattivo gusto e fuori luogo. Innanzitutto, dopo la clip che c'è stata ieri, tra l'altro per me divertentissima, dove hanno semplicemente preso in giro Andrea, per una situazione però che condividono tutti. Non è che Andrea è l'unico che si lamenta, semplicemente è quello oggettivamente per carattere un pochino più colorito. Però ragazze, posso dire una cosa? Allora, se non si esprimono e non si espongono, sono dei comodini, se dicono quello che pensano, sono arroganti e sono lamentosi. Troviamo un attimo un punto d'incontro. Non penso che Andrea abbia fatto nulla di diverso da quello che hanno fatto altri che sono nella sua condizione da 60 giorni. Gli autori dell'Isola scherzano su Andrea Cerioli. A rincarare la dose ci pensano in maniera esplicitamente ironica, anche per sdrammatizzare, gli stessi autori dell'Isola dei Famosi. Sul profilo ufficiale Instagram del programma infatti sono già state pubblicate alcune meme che hanno come protagonista proprio Andrea Cerioli. Il primo lo ritrae nelle vesti dello storico e compianto giudice di forum. Andrea Cerioli is the news antilicheri. Si legge nella didascalia. Poche ore fa ne è apparso un altro, davvero esilarante. Andrea Cerioli is the new Brontolo? L'immagine ritrae Andrea assieme ai sette nani della Disney. Inutile sottolineare che i follower sono impazziti, inondando i post di like e di commenti divertenti. iscriviti al nostro canale. iscriviti al nostro canale.